Mi hanno chiamato tre ore fa i Carabinieri, sono arrivati ora. Senti come ancora... Sì, è da prima che... Ragazzi, i Carabinieri sono arrivati dopo 40 minuti che abbiamo chiamato. Però quando ci fanno i canoni dei ragazzi su piano, sono i primi che ci hanno trappato. Abbiamo cercato pure di chiamare i condomini sopra, ma abbiamo fatto di tutto. Forse loro sono le vani. Finalmente sono arrivati i pompieri. Ma dopo un bel po'. E' pure le mani. E' pure le mani. I pompieri sono arrivati dopo 40 minuti. Quindi, almeno... Ragazzi... lo metto proprio sopra le tue le sceglie più che altro se c'erano i ma più che altro se c'è qualcuno sopra i condomini che sono devo testimoniare ho fatto bene a dirtelo allora l'ho detto io di suonare eh ma con tutte le cazzate che avevano dentro no 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 Grazie a tutti. Guarda, ora stanno aprendo la serranda con i ciclieri, stanno aprendo il ferro con la saldatrice, come cazzo si chiama, il saldatore. No, no, no. Stoppo qua il video. Ciao ragazzi.